11 dicembre 1994 Il presidente russo Boris Yeltsin invia 40.000 soldati nella Repubblica Cecena per impedirne la secessione. È l'inizio di una guerra durissima, costata la vita a 200.000 ceceni e 25.000 soldati russi, costellata di episodi tristemente eclatanti come quelli del teatro Dubrovka e di Beslan e non ancora conclusa.